Oh, finalmente, lavoro finito. È venuto veramente bene. Speriamo. Ecco, lui è Guido e lei è Mina. Quest'anno i nostri professori ci hanno proposto di girare un documentario. Un documentario sulla Casa del Mondo, un centro che si occupa delle persone che richiedono asilo. Dunque, siamo partiti da qui. Ci siamo dati appuntamento alla stazione. Logico. Stiamo per fare il nostro primo documentario. Si chiama Casa del Mondo. Ormai è un po' banale, ma intanto sono 12 che hanno un gruppo. I rifugiati che arrivano in Italia sono una minima parte della loro storia e della loro vita. Le rotte del viaggio che loro fanno per venire qua. Lì c'è tutto il nome che è sicuro che lì si vivono qua. Una storia è diventata una storia. Una vita, no?